Di nuovo insieme con Spunti e Spuntini, l'inondazione che ha colpito una parte della Toscana, in modo particolare nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, ha naturalmente commosso l'Italia intera e attivato anche una serie di iniziative solidali in favore delle popolazioni colpite. Tra queste anche quella di un comitato, il Comitato Via Emilia, che ha sede qui a D'Arezzo, Parco di Via Emilia, ne parliamo insieme con l'Avvocato Lorenza Calvanese e con Rossella Peruzzi, che hanno accettato di condividere questo spazio insieme con noi a Spunti e Spuntini. Avvocato, le domando come è nata l'idea di aiutare, di venire incontro all'esigenza della popolazione colpita dall'alluvione? L'idea è nata da un'esigenza di essere comunità, cioè in tempi dove ognuno vive in maniera individuale, noi sentiamo l'esigenza in realtà di ricreare un tessuto sociale, che sembra quindi sparito. Quando c'è stata l'alluvione, a un certo punto abbiamo sentito il dovere morale e anche proprio umano di dar loro un apporto nei limiti in cui l'abbiamo potuto fare. E' stato bellissimo come ha risposto la popolazione a retina, con il passaparola, quindi persone che invitavano altre persone. E' stato un movimento di tante persone che hanno cercato di essere presenti e che erano orgogliose di far parte della comunità toscana. Rossella Peruzzi, il Comitato Parco di Via Emilia si sta segnalando per una serie di iniziative. Questa è una iniziativa che vi coinvolge direi a tutto tondo, no? Certamente, perché è nata con lo scopo proprio del bene comune. E' nata quando volevano fare un centro di aggregazione dentro a un parco, ci siamo movimentate e è nato così il Comitato Parco di Via Emilia. E abbiamo continuato a lavorare per il bene comune. Davvero meritevole questa iniziativa. Abbiamo in collegamento anche Alessio Frasconi. Alessio Frasconi che si collega con noi. Alessio da Prato? No, buongiorno a tutti. Da Campi Visenzio. Campi Visenzio. Addirittura ancora più martoriato da quello che è stato l'evento di novembre. Ecco, da quello che è successo. Tu sei presidente dell'associazione La Peora Nera, detta in dialetto toscano. Però in questo caso, dobbiamo dire, rappresenti una serie di associazioni che stanno operando attivamente sul territorio per cercare così ancora di dare sollievo, soccorso alle popolazioni che a novembre sono state colpite dall'alluvione. Come si sta svolgendo a grandi linee la vostra attività? Allora, sì, innanzitutto vi ringrazio per l'invito perché è veramente un piacere essere qua e continuare a parlare di Campi Visenzio e per lui tutte le altre zone colpite dall'alluvione è fondamentale per noi. Noi siamo un gruppo di associazioni che fin da subito si è attivato scendendo in campo nelle ore immediatamente successive all'evento del 2 novembre e si è attivato così spontaneamente un coordinamento tra le varie associazioni che appunto stavano dando il loro contributo per far sì che le forze non andassero dissipate e che ci fosse veramente un collegamento, un dialogo continuo tra noi forze di volontariato al fine di aiutare le persone più in difficoltà per poi dare un continuo anche a questa iniziativa per ricreare, per così dire, un circuito che possa essere veramente efficiente ed efficace a livello di volontariato. Alessio, scusami, io sto leggendo anche l'elenco delle associazioni che fanno parte che collaborano insieme con la Pevora Nera, associazioni che, voglio dire, rappresentano un po' tutto il territorio è numerosissimo questo elenco. Sì, siamo quasi 30 associazioni, ora le ultime stanno dando la loro adesione quindi diciamo che nei prossimi giorni barra settimane riusciremo a sfondare anche il numero delle 30 e ci sono associazioni che a livello proprio anche regionale, mi permetto di dire rappresentano un po' tutto il territorio non soltanto campigiano ma appunto regionale quindi è veramente una grande forza che si è unita e sta cercando con varie iniziative tra cui appunto la raccolta fondi che abbiamo avviato con la vendita, per così dire, delle magliette, delle felpe che vedete indossate e che ha portato già un grande cospicuo in porto da devolvere poi alle famiglie alluvionate che si concluderà nel mese di maggio, meglio prima ad aprile faremo un pranzo presso il Circolo Sant'Angelo qui di Campi Bisenzio per la raccolta fondi e poi a maggio faremo un'ultima iniziativa di camminata in mezzo ai posti più colpiti dall'alluvione e coloneremo così l'iniziativa e faremo poi le donazioni a tutte le famiglie che hanno ancora bisogno perché purtroppo ancora in tanti sono in grosse difficoltà. In grosse difficoltà davvero, Avvocato, stavamo sentendo le parole di Alessio Frasconi, le ascoltavamo con il sorriso pensando alla solidarietà che in fondo è emersa un po' in tutta la Toscana e Arezzo non ha fatto eccezione. No, Arezzo chiamata a rispondere alla solidarietà lo ha fatto, considerate abbiamo fatto ieri un bonifico da 1.090 euro ad una scuola perché volevamo anche dire a chi ha partecipato dove sono andati a finire i loro soldi le abbiamo utilizzati però per il bene comune, quindi una scuola forse è il sintomo di speranza, il segno della speranza perché è una scuola dove ci sono la materna, elementare e medie, l'istituto quindi Rita Levi Montalcino di Campi Bisenzio che ci è stato segnalato, quindi andranno per comprare arredi per i bambini, è un segno secondo me di rinascita proprio destinarlo ai bambini. Rossella, Arezzo e ci piace ribadirlo, Arezzo la solidarietà è stata espressa anche in passato in varie occasioni ugualmente tragiche e impegnative, pensiamo per esempio a come gli aretini a suo tempo hanno contribuito anche per le popolazioni dell'Umbria e delle Marche colpite dal terremoto, voglio dire questa è una ulteriore dimostrazione le persone hanno subito accettato, condiviso questa vostra iniziativa? Sì, hanno subito condiviso e non solo, persone che non potevano essere presenti hanno contribuito poi a donare quello che si sentivano di donare, pertanto dimostra che la nostra città è una città altruista anche se ci vogliono far credere il contrario, perché non è così. Perché non è così? In effetti sappiamo che esistono anche molte associazioni che operano non soltanto nel territorio Alessio, a grandi linee, tu lo hai accennato in precedenza durante il tuo intervento come si presenta adesso la situazione nelle zone alluvianate? Ci sono ancora molti problemi da affrontare, da risolvere? Allora, il problema principale fondamentalmente è che tante famiglie sono purtroppo ancora sfollate perché si parla di tempistiche lunghissime evidentemente anche per poter mettere mano a ciò che è stato rovinato quindi io immagino alle pareti delle case che sono state per giorni e giorni intrise d'acqua e di fango si parla di circa giugno-luglio, non prima dell'estate quindi per poter intervenire negli appartamenti e negli immobili più colpiti quindi ci sono ancora, leggevo qualche dato qualche giorno fa, circa 200 famiglie ancora sfollate che sono chiaramente costrette a vivere o appoggiandosi a parenti o a amici o chiaramente cercando un alloggio in affitto quindi credo che questo sia il problema principale e dall'altra parte è necessario chiaramente intervenire anche in una ottica di prevenzione per fare i lavori che già in parte sono stati fatti ma chiaramente in un'ottica di somma urgenza quindi sono state ripristinate le cose come erano prima ma che chiaramente hanno bisogno di un rafforzamento. Alessio, scusami, un'ultima domanda poi ti congediamo e ti ringraziamo della tua partecipazione. L'impressione è che le popolazioni toscane non abbiano atteso gli aiuti delle istituzioni vale a dire si siano mosse in modo autonomo già subito dopo l'alluvione, già nei primi giorni mi sembra quindi non c'è stato un atteggiamento passivo da parte loro? Assolutamente no, assolutamente no e anzi io approfitto dell'occasione per ringraziare chiaramente Rossella e il comitato che ha fatto questa bellissima donazione alla scuola è stato un piacere veramente avere a che fare con loro e allargherei il ringraziamento a tutte le popolazioni toscane, tutti i residenti toscani che fin da subito io immagino e penso sempre all'immagine di quei ragazzi che hanno inondato le nostre strade e senza i quali non saremmo arrivati a superare i momenti più difficili in un così breve tempo. Quindi un grazie veramente sentito a tutti, chi ha contribuito in maniera diretta, chi ha contribuito in maniera indiretta perché fondamentalmente anche stavolta il volontariato ha vinto nella chiaramente burocrazia immensa delle istituzioni che immediatamente dopo e quindi al ridosso dell'evento non sono state presenti. Grazie davvero Alessio per questo tuo intervento, ci ripromettiamo di continuare a monitorare la situazione anche tramite le amiche del comitato. Oggi fra l'altro il comitato, grazie Alessio, il comitato è rappresentato dall'avvocato calvanese e da Rossella Peruzzi, però ricordiamo anche Manca una terza persona, che è l'avvocato Sabrina Candi, che anche lei ha contribuito all'organizzazione che partecipa a queste nostre iniziative, io telefono, mi viene in mente un'idea, con Rossella e Sabrina aderisce sempre e con piacere. Allora, siccome ci siamo ripromessi di non esaurire qui questo argomento perché i fatti di cronaca sono stati i fatti di cronaca che, come detto, hanno scosso le sensibilità di molte persone, ci ripromettiamo la prossima volta di tornare a parlare, di monitorare la situazione e di avere come ospite l'avvocato Candi, che sicuramente accetterà di buon grado il nostro invito. Rossella, l'attività del comitato come proseguirà? Proseguirà sempre guardando le problematiche del momento e anche del futuro. Io posso ringraziare Alessio un attimo, perché devo dire che l'ho riempito di chiamate perché noi proprio volevamo dare questo contributo a una scuola, sicché lui si è messo alla ricerca proprio per accontentarci su questa cosa, perché a noi non piaceva darlo in un conto corrente. Volevate essere sicuri poi che gli aiuti arrivassero a destinazione, perché questo è stato un po' il problema ricorrente, perlomeno in passato lo è stato. Questa volta no, però. Questa volta no, per fortuna. Questa volta sono andati a destinazione. Quindi sono stati aiuti, avvocato mi correga, mirati anche, in base alle necessità della popolazione. Voi sapevate quali erano i bisogni effettivi della popolazione? Noi sapevamo della loro disperazione, del fatto che avevano perso tutto, che c'erano tante famiglie sfollate, che c'erano tante strutture pubbliche e scuole distrutte. E proprio abbiamo voluto inserire il nostro aiuto nella scuola, perché la scuola è a beneficio di tutti, anche di chi non ha figli, perché formano le nuove generazioni. Grazie all'avvocato Lorenza Calvanese, grazie anche a Rossella Peruzzi del Comitato Parco di Via Emilia. Abbiamo parlato di questo impegno del Comitato in favore delle zone alluvionate e come detto ci ripromettiamo poi di monitorare ancora la situazione. La linea per il momento può tornare alla regia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.